Buongiorno. Descrizione del simbolo extra. Il simbolo è costituito da un punto di domanda capovolto, che ricorda la figura di un amo da pesca. C'è una farfallina di profilo come esca, simbolo di primavera e metamorfosi. Nel profilo interno dell'amo si può notare il seno di una donna, una tetta con la pancetta. Ci sono i colori verde, bianco e rosso ad indicare l'Italia ed inoltre ci sono tre stelle italiane. Il significato più immediato potrebbe essere amo anche le stelle d'Italia e per me le stelle sono le donne in quanto se si incazzano fanno luce, fuoco e fiamme. Si legge la parola extra in cui è presente la lettera E simile alla lettera psi greca ad indicare la psiche della persona, espressione, che secondo me è la cosa più importante che abbiamo, più importante dell'estetica del corpo e più importante anche dei muscoli in quanto è proprio la psiche che governa la forza e l'energia dei muscoli. Ci sono le lettere C, S e T unite a formare un bellissimo numero 5 che sta ad indicare i cinque sensi della persona. Quindi abbiamo che la psiche attraverso i cinque sensi percepisce la realtà, riflette e ama. Per ultimo la parola extra, se viene letta al contrario, può dare ARTE. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.